Guru Pranam è una variazione della classica posizione yoga del bambino e ha molti benefici sia fisici che mentali. Partendo dalla posizione del diamante seduti sulle ginocchia, apri le ginocchia e lentamente vai giù, allungandoti con le mani di fronte a te. Allunga bene tutta la schiena creando spazio tra le vertebre. Metti la fronte sul pavimento, le mani sono in preghiera di fronte a te. Porta l'ombelico verso la colonna vertebrale per allungare ancora un po' di più la schiena. Ora puoi decidere di rimanere in questa posizione respirando lentamente e profondamente oppure puoi vibrare la sillaba Ong sentendo la vibrazione del mantra nel terzo occhio. Grazie a tutti. 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 po' di più. Quando vuoi uscire dalla posizione porta le mani vicino alle ginocchia inspirando ed espirando lentamente srotola la colonna vertebrale una vertebra alla volta verso l'alto. La testa viene su per ultima. Grazie per aver guardato Viberon Kundalini, noi ci vediamo al prossimo video. Sat Nam Grazie a tutti.